Nel 350 a.C. Alessandro il Grande sottomise al potere macedo nei territori dell'impero persiano, portandovi l'arte militare europea e il razionalismo scettico tipico delle società pagane. Da allora la civiltà europea rimase una delle forze sempre attive nel determinare la storia dell'Asia. Fino al 125 a.C. perdurò un regno autonomo greco in Bactria, l'attuale Afghanistan, e nelle regioni limitrofe, che conquistò anche la valle del Gange prima di doversi sottomettere ad altri popoli circostanti. Nel I secolo d.C. i greco-battriani dell'Asia centrale caddero sotto il dominio dei nomadi Kushan, che venuti da regioni di nord-est ai confini con la Cina, scesero a sud fino alla valle del Gange, abbracciarono il buddismo e lo diffusero fino in Cina. Ma mantennero anche la cultura e la lingua greca. Ne nacque una straordinaria sintesi culturale. Si sviluppò enormemente il commercio lungo la via della seta, non soltanto in direzione est-ovest, ma anche nord-sud. Grazie. 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 Grazie.